FANTOM DOCTRINE Ovviamente lo starter non esisteva, nel 2 esiste, ma nel momento in cui noi sferiamo un attacco a un nemico veniamo scoperti in automatico. Almeno questo è quanto ho notato io. Ora, noi in questo gioco gestiamo negli anni 80, in corso della guerra fredda, una corporazione segreta. Davvero sono tanti gli aspetti da padroneggiare, infatti io adesso vado a caricare la mia partita e vi farò vedere quanto più possibile. Possiamo, ovviamente come dice anche qua il consiglio, ce ne sono ben 44, ricordarci di chiudere le porte, dobbiamo ricordarci di uccidere silenziosamente o stordire in base alla nostra scelta. Noi abbiamo qua la nostra base, la nostra base quasi al completo perché ovviamente ci sono delle stanze ancora chiuse, dove possiamo andare a produrre delle cose. Adesso vi faccio vedere, allora iniziamo con la caserma. Nella caserma vediamo un po' come this is the police, tutto il nostro crew, roster, insomma roster di agenti che hanno ognuno un proprio nome. In cui, vedete qua, ci sono due agenti in viaggio perché li possiamo mandare. Sono veramente tanti gli aspetti, come vi dicevo, da tenere d'occhio perché in questo caso possiamo vedere, richiamare, localizzare un agente. Perché li possiamo mandare anche nelle missioni a tempo, oltre che mandarli in missione dove possiamo agire noi stessi un po' alla XCOM. Possiamo vedere le doti, in questo caso dobbiamo ancora scoprirle, invece questo scialbo, c'è uno che si chiama scialbo. Vedete i suoi apparati, il circolatorio, il respiratorio, il sensorio, il motorio, insomma, bello completo. Ha un'ottima competenza con queste armi, ha il giubbottone dei proiettili, il chiede di pronto soccorso, una granata fumogena e delle doti. È leale, quindi ha il frattario, l'influenza nemica, il talento della creazione fa una creazione più rapida, il talento della ricognizione ha esperienza bonus e un attore riduce la distanza in cui gli agenti nemici possono scoprire un travestimento. Quindi possiamo anche vestirci come i nemici e quindi entrare, infiltrarci nelle loro fila. Abbiamo poi l'infermeria dove possiamo assegnare un agente, nessuno richiede al momento cure e più rimangono qui più diventa rapida la guarigione. Poi abbiamo l'officina, l'officina è assolutamente interessante, la vedete lì, ci clicchiamo sopra. In questo caso possiamo mettere dell'agente, in questo caso ho messo scialbo a creare dei grimaldelli. In questo caso potenziando questo edificio possiamo andare a mettere più persone e vedete che poi qua ci sono, stiamo producendo anche rilevatori sul perimetro del covo. Quindi il pericolo massimo aumentato riduce significativamente il rischio di ride e relativa perdita. Ovviamente inutile che ve lo dica, l'avete già visto, il gioco è in italiano. Stiamo anche potenziando il perimetro perché è un rischio che correremo sicuramente nel corso della nostra avventura, è quello che ci scoprano, cioè scoprano dove sia la nostra base, della nostra intelligence e quindi vengano a attaccarci. Vedete che abbiamo anche il reparto, quelli da sbloccare sono il reparto Zecca, stampa denaro, personalizzazione dei personaggi di identità, questo invece l'equipaggiamento sblocca la ricognizione tattica, ottenendo vantaggi durante le missioni, la caserma quindi aumenta il limite degli agenti, l'espansione dell'analisi invece è uno slot schema delle connessioni addizionali che questo onestamente devo ancora scoprire che cos'è, ma non mi ricordo perlomeno perché ci ho giocato tempo fa, ok no, ci dà un punto in più qua nelle analisi, perché possiamo spostare allora qua nel laboratorio di analisi, possiamo spostare il nostro covo ma soprattutto questo, questa è una cosa veramente complicata perché noi troviamo all'interno di questo edificio, questa stanza, tutte le prove che abbiamo recuperato, quindi non diventa solo un recupero di prove per i punti esperienza, ma vedete possiamo andare a attaccare insieme i vari collegamenti che troviamo, abbiamo trovato degli oggetti che possono essere ricondotti a qualcuno, qualcosa, insomma dobbiamo unire tutto quello che abbiamo, qua invece abbiamo la mappa del mondo, è una rete di spionaggio in cui possiamo inviare degli agenti che conducono delle operazioni e queste operazioni che compiono possono avere degli esiti diversi, quindi possiamo fermarli, farli rientrare oppure rischiare di perderli. In questo momento abbiamo mandato qualcuno qua a Beirut, no, scusate, Beirut è il nostro covo perché la nostra corporazione si chiama Kabbalah, lo stiamo mandando, no, qua sono gli agenti sul luogo, no, non mi ricordo se ne avevo già mandati, comunque possiamo mandare qualcuno a Baku, mandiamo Dundee, viaggia, la mandiamo lì e vediamo che cosa succede dopo, insomma quando poi andiamo a velocizzare, vedete che intanto abbiamo rilevato attività sospette nel Nord Africa, cos'è in Libia? I segni di attività sospette appariranno progressivamente in tutto il mondo, potrebbero essere operazioni nemiche, informatori e amici, candidati per il covo, solo farsi allarmi, vedete che qua abbiamo, sta andando là, ad Aleppo sta andando Durand, vabbè possiamo andare avanti ancora, vedete che poi le ore passano e la gente è arrivato qua, agenti, no, l'ho fatta rientrare, vedete che sta prendendo il viaggio, e vabbè niente ho sbagliato, vabbè tanto ho due agenti, una porto Said e l'altro di là, e niente vediamo un attimino come andare avanti, in questo caso qua abbiamo il giorno 4, abbiamo i soldi, abbiamo il livello di pericolo che al momento è 0, ma io direi di continuare a mandare avanti il tempo, perché così almeno riusciamo a scoprire altre cose, e intanto sto facendo rientrare un agente, io mando qualcuno qua perché ci hanno detto che... avviamo il lavoro, ok lo mandiamo là, è ok, ok, pericolo massimo aumentato, riduce a sinistimamente il rischio di raid, ok abbiamo completato, ok, torna al reparto, ok continua, quello è lo spianaggio prima classe, ah ok è arrivato il pacco da Leslie, quello è lo spianaggio prima classe, parlo di me ovviamente, dato che le mie franzelle non sono così accurate, penso che anche il resto valga la pena essere esaminato, mi serve un altro favore, trova l'uomo chiamato Aguirre, c'è lento fino al collo, è anche un bastardo, dossier allegato, avevo individuato la guerra, ufficialmente coordino i trasporti maritimi di un ONG, chiamata Good Samaritans of America, ufficiosamente, lo scopriremo, dobbiamo solo aspettare che faccia un passo falso, e seguirlo fino a destinazione, ok abbiamo trovato documenti segreti, sono uno scorciatore per informazioni importanti, si ottengono in solito tramite gli informatori, trovandoli nelle missioni o risolvendo casi, di uno schermo delle connessioni, ok, nuovo fascicolo, abbiamo trovato Aguirre, vedete che qua abbiamo un fascicolo, che possiamo andare a leggere, su quello che ha fatto lui, e poi possiamo ipotizzare queste parole censurate, compare la prima volta energisti, come si carica il locale, organizzazione Miami, vediamo, si può andare anche a selezionare, vedete, ai reparti clienti, possiamo andare a vedere se c'è qualcosa, che ovviamente adesso io clicco a caso, però possiamo, ok, abbiamo ottenuto, ok, vedete che qua possiamo poi andare a metterlo, e andare a vedere, informazioni raccolte, vedete che abbiamo altre cose, possiamo, ovviamente qua dovrei ricominciare tutto, per capire, di che cosa stiamo parlando, vedete che qua, ci sono, te l'ho detto, i vecchi brani, non vuole vedere l'operazione segreta, messo nello su bianco, quarta musa, cioè siamo abbastanza, criptici qua, nella, nella cosa, non ci sono, quarta musa, vedete, arena civica, abbiamo trovato, degli indizi, però operazioni segrete, bisogna leggere bene tutto, e cercare di capire, che cosa, vedete che qua, abbiamo scoperto delle cose, possiamo vedere, se ci sono altre parole interessanti, no, direi di no, io ovviamente, essendo qua in esigenza di video, non, diverse nazioni, medio oriente, sospettato, eh no, non, non abbiamo nulla, per collegarlo, ci manca anche un obiettivo qua, una, una parola, però è tutto censurato, quindi non credo, ci sia niente, di, di che ancora, abbiamo altro ancora da vedere, sì, Moby Dick, vediamo, numerico, le monta 17, si consiglia, frattamente, ok, no, abbiamo trovato, al cartello di Antioquia, praticamente dice che, mmm, cafone, da cafone, che è un nome, ok, cartello di, no, non è, non me lo dà collegato, quindi, direi che, dobbiamo vedere che cosa è collegato, tra, tra loro, vediamo se, ok, c'è un collegamento, cartello di Antioquia, ma, non abbiamo altro da, da poter collegare, nessun'altra informazione, dobbiamo continuare, a mandare i nostri agenti, in base a dove, dove ci chiamano, allora, andiamo, torniamo alla mappa, che tra un'ora, abbiamo creato i Grimaldelli, che ci mancano, torniamo alla mappa, vediamo se succede qualcosa, perché qua, stiamo facendo spionaggio, qua, potremmo andare, a mandare un altro agente, mandiamo lui, e, mandiamo avanti il tempo, tanto, non stiamo rischiando niente, abbiamo creato, continua, perfetto, intanto, vediamo un altro tizio, che vola, pian piano, sta superando tutto il Medio Oriente, e, arriverà lì, ok, oddio, attività di Aguirre, ok, e l'aritmo della storia, se non altrimenti specificato, l'attività nemica, significativa per la storia, non ha limiti temporali, può essere fatta accadere, a tua discrezione, puoi quindi esplorare la storia, con il tuo ritmo, ok, allora, abbiamo, fuga di Aguirre, ha chiesto un 4x4, ok, lo stiamo spiando, ok, ha chiesto un 4x4, ok, bene, possiamo intervenire, stiamo inseguendo questo tizio qui, avete visto quello che ho detto, probabilmente, bisognerebbe leggere tutto, però, mandiamo, voglio mandare qualcuno, agenti sul luogo, ok, ci mandiamo, ci abbiamo mandato un tizio, ok, agenti sul luogo, solo, scialbo e delatore, no, abbiamo già mandato questi agenti qui, quindi, vediamo che cosa fa, speravo iniziassi una missione, invece, in realtà, no, allora, il pericolo misura quando è lontano il nemico da scoprire il tuo covo, infatti vedete che sta aumentando, tieni d'occhio l'aumento del pericolo, perché l'unico modo di abbassarlo è il costoso processo di spostamento della base, va bene, andiamo avanti ancora, e vediamo se riusciamo a seguire sto tizio, e magari fargli scoprire dov'è il suo posto, mancano due ore, quindi, un'ora, meno di un'ora, ok, Aguirre ha guidato per parecchie ore, è passato il confine con la Siria, senza problemi, deve aver corrotto le guardie di frontiera, il nostro agente lo ha individuato nella biblioteca pubblica di una città, dove ha fatto campo, va bene, abbiamo ottenuto altre informazioni, e poi a breve magari andremo anche a combattere, vediamo le nuove informazioni raccolte, diamo un'aletta sterlina, questo è un nickname sicuramente, Quasar Blu, ok, abbiamo due indizi in più, abbiamo trovato anche questo, questo, ah sì, sono altre cose che avevamo trovato, vediamo se è tutto connesso, no, io vado un po' a caso, perché ovviamente, ok, è tutto connesso, e vediamo se si collega anche con questo, direi di sì, no, no, abbiamo fatto dei progressi, vediamo adesso, mandiamo avanti ancora, anzi no, no, non c'è più nulla qua, qua io non so cosa stia succedendo, mandiamo un altro tizio, mandiamo lei, a fare questo lavoro, e vediamo se, ci scopre qualcosa, ci sono tante zone, tante cose da fare, ok, ok, dobbiamo piantonare la cellula, quindi mandiamo canasta, no, ah no, abbiamo, hanno beccato due round, e non possiamo andare a nessuno, perché non abbiamo nessuno lì, credo che possiamo andargli, ah no, ok, possiamo avviare il lavoro, in quattro, ok, andiamo lì, e vediamo cosa succede, stanno lasciando tutti, bisogna fare attenzione, non come ho fatto io, che ho mollato tutte le missioni, per poter andare lì, dobbiamo amministrarci bene alla base, vediamo, stiamo piantonando una cellula, abbiamo abbandonato questo, Algeri, no, lì ce ne sono altre, ok, ok, perfetto, continuiamo, e vediamo cosa succede qui, ok, a breve, tra meno di un'ora, abbiamo piantonato la cellula, attività nemica scoperto, cellula behholder, ciclo di sorveglianza della base, continua, abbiamo scoperto, nuovi documenti, ancora, ah, è una trascrizione sul campo, non ti hanno seguito, scusami, ok, perché volevi incontrarmi, Jerry, progetto iceberg, Walter Poon, stammi bene, mi ha mandato, e qua c'è un nome, no, direi che, non è il caso, cioè, non abbiamo progetto iceberg, no, non abbiamo nulla, quindi, niente, si va avanti ancora, e vediamo, candidato per il covo, ok, no, agenti sul luogo, qua, abbiamo il covo, questo è un nuovo, nuovo luogo, dove possiamo spostare il nostro covo, e, dobbiamo tornare, un'attività sospetta, mando lui, mando scialvo, e magari mandiamo qualcuno, anche dandili, la ci mandiamo dell'attore, sto facendo a caso, è giusto perché voglio farvi vedere come funziona, e magari arrivare anche al, al combattimento, in realtà, dovremmo scegliere bene i nostri movimenti, per, vediamo cosa succede, rivelerà un segreto tra 17 ore, l'abbiamo concluso, dell'attore, lo mandiamo qua, e qua mandiamo, raggio, via, devono passare un po' di ore, intanto il pericolo sta, aumentando, perché ovviamente stiamo mandando i nostri agenti in giro per il mondo, e potrebbero interrogarli, insomma, fare il controspionaggio, e scoprire da dove vengono mandati, la ricognizione del nemico, tra 3 ore, 2 ore, 1 ora, ok, l'informazione proviene dal nostro informatore, di Kuwait City, dossier a gare, a gare, insomma, cos'è questo? Come d'ordine abbiamo seguito, al molo, della grandine, della piena di scagnozzi, della beholder, ok, quindi, beholder, è qua, quindi è un collegamento con questa cosa qui, si ho avviato un sacco di casi insieme, e dovrei metterli un po' da parte, perché questi sono tutti collegati, magari questo si collega con qualcosa qua, no, direi che è una cosa diversa, abbiamo trovato anche questo, a seguito di accuse, Tunguska, arrivo Tungusta, Arrappimento, non abbiamo niente da poter capire, quindi, è questa, ok, Quasar Vlue, no, non è collegato, ok, è collegato a questo, quindi, Tunguska, è collegato a questo, ok, perfetto, stiamo portando avanti diversi casi, però, non, non c'entra niente, non abbiamo più niente, niente, andiamo avanti, non so se abbiamo scoperto anche altro, ma, io, manderei avanti il tempo, perché abbiamo ancora qualcosina da scoprire, tra meno di un'ora abbiamo, ok, nuova informazione, teoria del complotto, nuova informazione, vediamo, due nuove informazioni, un'altra, no, questo l'abbiamo già visto, la trascrizione della conversazione, Leslie ci ha inviato un dossier, no, dovremmo aver fatto tutto, no? quarta musa, non mi ricordo, mannaggia, dove, dove l'aveva connesso questo, no, non c'entra niente con questo caso, paura, no, infatti, diventano tutte, palli delle stelline, quindi non, non c'entra nulla, allora, è un gioco senz'altro molto, molto, molto complesso, andiamo avanti, e vediamo cosa succede, agenti nemici, ok, possiamo rilevare, vedete, quando abbiamo trovato, una, una personalità, lo possiamo andare a prendere, e quindi, è quello che cercheremo di fare adesso, proseguendo, l'avventura, abbiamo, la possibilità di mandare qualcuno, ovviamente, raggio, non lo mandiamo, perché la sua identità, è stata, smascherata, smascherata, stanno partendo nuove cose, io mando gente, in giro, per il mondo, completamente a caso, in modo da farli un po' lavorare, e devono lavorare diverse ore, qua dobbiamo fare attenzione, perché poi siamo pronti, a spostarci di zona, ok, nemico smascherato, abbiamo trovato il corriere, eccolo qui, zoom sull'attività, eccolo qui, no, abbiamo trovato anche questo, zoom sull'attività, ok, abbiamo, siamo riusciti a, risalire a un, a un posto, insomma, e mandiamo due persone, puoi usare, non puoi usare forze, di supporto, ricognizione tattica, non completata, equipaggiamento, spero non sia silenziato, e adesso vi faccio vedere, anche come funziona, il combattimento sul campo, ovviamente, è un gameplay, che doveva essere studiato, comunque di più, perché dovevo leggere, informazioni, ma, la mia intenzione, è quella di incuriosirvi, e farvi, poi esplorare voi il gioco, perché non ha senso, che potete ancora, leggere, tutti i dossier, perdere tempo, e magari poi, volete giocare anche voi, quindi, siamo andati un po' a caso, in modo che poi, possiate fare tutti, in essi logici, qualora, poi decidiate di acquistare il gioco, quello che posso dirvi, è che la campagna, completamente in italiano, dura una quarantina di ore, iniziamo la missione, iniziamo, o non la completeremo, perché sarà una missione, anche piuttosto lunga, però, il tutorial, poi è molto esauriente, perché ci spiegherà, come funziona, il travestimento, quindi, dobbiamo fare molta attenzione, ed entrare qua, allora, vedete che lì ci sono dei nemici, quindi possiamo, entrare, senza, possibilmente, farci vedere, evacuazione, sfondamento, l'abilità, l'abilità, beh, tanto lui è lì, è protetto, quindi, direi che, lo teniamo lì, dov'è, allora, empatia, allora, abilità, distrai, zen, mira, no, direi che, abbatti, no, non, non facciamo nulla di tutto questo, ah, però, è lì c'è una telecamera, non possiamo, infiltrazione, direi che, allora, spostiamo, all'alto, e lo spostiamo lì, anche lui, stiamo entrando, praticamente, dalla porta, senza farci vedere, equipaggiamento, granata, frammentazione, no, io non voglio far scoppiare un, fine turno, ok, si muovono, speriamo che non ci becchino, si sono allontanati, quindi direi che, magari, possiamo anche tentare di, di stordirli, intanto, si stanno muovendo tutti, quindi, stanno, ognuno completando il proprio turno, ok, possiamo andare, a stordire, sto tizio, allora, vai qui, ci proviamo, adesso devo ricordarmi, come si fa, questo passaggio, è un'abilità passive, non è effettivo, no, ho capito, ma, allora, abbatti, neutale, silenziosamente, non letale, perfetto, perfetto, abbiamo fatto, molto silenziosi, abbiamo fatto, molto silenziosamente, il tizio qui, però, io mi sposto qua, spero che, non mi veda, vai qui, vai qui, vai qui, no, non puoi, vabbè, abilità, vediamo lui, no, l'ho già guardato, sensore cardiaco, abbatti, abbatti, neutralità, silenziosamente, il bersaglio, non letale, e lo so, però, non posso farlo, quindi, devo passare il turno, sperando che, questo tizio qui, non torni indietro, ci veda, quindi, ok, ma, a parte che potrei, a questo punto, ignorarlo, però, abbiamo un corpo, lasciato qui, quindi, direi che, non possiamo, permetterci questa cosa, adesso vedo, io prendo lui, vediamo se riusciamo, elimina cadavere, nascondi nemici, uccisi, o neutralizzati, evitare le guardie, li trovi, non accetta, ok, buttiamo il turno così, eliminando il corpo, a questo punto, non possiamo andare a prenderlo, perché questo qua, è in fondo, però, oddio, non possiamo neanche entrare da qui, quindi, dobbiamo entrare da là, però, io direi di, di spostarmi qua, come prima cosa, non possiamo, io ti tengo qua dietro, sai, perché, poi, ognuno ha i suoi punti movimento, insomma, i suoi punti per, per tutto, vai qua davanti, e vediamo, se il tizio torna indietro, eccolo lì, speriamo che non ci becchi, no, 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 ok, no, abbiamo avuto un colpo di culo, speriamo di, il tizio da uccidere qua, probabilmente piano di sopra, dobbiamo fare attenzione, allora, tu tizio, no, prendi lui, accetta, quindi, non spariamo un colpo, infiltrazione, e poi, no, punti fuoco insufficienti, non possiamo, farlo, però, volevo provare, il sensore cardiaco, vediamo se, vediamo, accetta, ok, abbiamo trovato qualcuno, ma sembra essere al piano di sopra, quindi, questa porta è chiusa, vediamo se riusciamo a fare qualcosa per la porta, c'è una telecamera anche lì però, poi ovviamente dovremo, i Grimaldelli, mannaggiano gli eliodati, mannaggiano gli eliodati, equipaggiamento, no, granata frammentazione, sono un cojones, dovevo equipaggiarli con i Grimaldelli nuovi che avevo prodotto, vabbè, tu, puoi fare qualcosa di utile o no? Vieni qua, non ha una chiave lui, distrai zen, cacchio è lo zen, migliora, ah ok no, tu, puoi spostarti di qua, vediamo se tu puoi fare qualcosa per la porta, ma dubito seriamente che tu possa, facciamo lo sfondamento, entriamo le armi spianate, dai così almeno la mandiamo in vacca subito, vedete, avete visto la parte un pochino più noiosa, quella della pianificazione, la ricerca delle prove, un po' alla Sherlock Holmes, però poi si inizia, allora, allora, tu puoi, sfondamento, gli agenti sparano nel mio stile, no, dobbiamo entrare da qui, vabbè dai, facciamo così, andiamo da lì, dai, vai, vai, scialbo, il nostro migliore agente, ok, ok, abbiamo rotto un vetro, puoi usare il sensore cardiaco? no, tu puoi, chied di pronto soccorso, abilità, no, non possiamo fare niente, passiamo il turno, vediamo subito se ci beccano, ovviamente poi potremmo silenziare le armi, e sparare, al momento sto adottando questo approccio molto molto furtivo, ok, allora, sicuramente qua dietro c'è qualcosa, quindi possiamo provare a entrare, e vediamo, facciamoci beccare subito, così almeno c'è la telecamera, ok, vediamo, non possiamo disattivarla, però, si può andare di sopra, quindi facciamo così, passiamo qua davanti, tu, vieni, vieni qui, vediamo se andiamo di sopra, ce la facciamo, ci becca la telecamera, passa il turno, e vediamo cosa succede, Scialbo registrato in video, ok, no, adesso ci hanno beccato, questo è il tempo di turno stimato, prima dell'arrivo dei rinforzi, perché ovviamente possiamo chiamare i rinforzi, ci hanno visto, non abbiamo un travestimento, non abbiamo avuto modo, quindi, a questo punto, loro cercheranno di venirci a prendere, e noi li aspetteremo, abbiamo fatto proprio male, ma giusto perché, vorrei sparare un colpo, almeno prima di chiudere il video, lo metto qui, vorrei dirgli di stare attento, mira, se tu venissi qui, e ti mettessi in modalità anche te, mira, no, lui lo può fare, quindi lui mirerà, se troverà qualcuno, buon, passa il turno, e vediamo, ci hanno visto, sanno che siamo lì, quindi, proprio davanti alla telecamera, giusto per dire, attenti nemici, siamo lì, il tizio, si sta, uh, eccola lì, eccola lì, ce la facciamo adesso, ok, lui è uscito fuori, e ci spara, sfiorato, ok, direi che è giunto il momento, di uscire, e prenderla, perché, la tizia da uccidere, è direttamente qui, fuori di noi, fuori dalla stanza, quindi direi che è saltata giù, dal secondo piano, quindi direi che è il momento giusto, salta fuori, e falla a pezzi, kit di pronto soccorso, granata fumogena, no, vorrei che la battessi, obiettivo secondario, infatti, uccidi o cattura, l'agente nemico, dobbiamo piazzare i fascicoli, ecco, vedete, pirla, io che non leggo i, che non leggo le cose, vabbè, riprendiamo lui, e lo facciamo, gli facciamo sparare, astutizia, ok, e qua, vedete che è proprio, alla pari di, di, XCOM, posso sparare ancora? no, punti fuoco insufficienti, ora finirà davvero male, perché lui, scappa, dobbiamo salire, piazzare i, eccolo lì, piazzare i fascicoli, quindi per incriminarli, in pratica, e, voglio prendere lui, e mandarlo su, a piazzare i fascicoli, allora, che poi, vedete, dobbiamo andare ben là, là in fondo, quindi, ce ne sarà di, di tempo, per, no, mamma, mamma mia, quanto sei ignorante, devo mandarti su dalle scale, pirlofen, puoi andare su? no, vabbè, tu, potresti farlo, invece, vero? no, fai una cosa, il tizio lì, si è nascosto, puoi sparargli, ok, l'ho fatto fuori, a questo punto, torna dentro, no, non puoi, non puoi, passiamo il turno, attività nemica, eccolo lì, che arriva, si, proprio, scialbo, nostro miglior agente, a questo punto, quello che possiamo fare, è andare fuori, prenderlo, portarlo in salvo, e sperare, che comunque, si salvi nell'infermeria, o fregarci, nelle balle, andare avanti, scialbo, sacrificabile, sali di sopra, e vediamo com'è, no, vabbè, ho cannato in pieno, proprio, vabbè, ho sbagliato, allora ragazzi, io spero, abbiate apprezzato, almeno, questo inizio, di gameplay, di Phantom Doctrine, spero, vi abbia incuriosito, per quanto, gameplay, molto, molto, raffazzonato, e non profondo, però giusto, per farvi capire, tutta la parte, alla Sherlock Holmes, dove dobbiamo cercare, le prove, abbinarle, trovare un luogo, mandando i nostri agenti, in giro per il mondo, facendo attenzione, a non far scoprire, la nostra base, e all'eventualità, che questa cosa succeda, possiamo spostare, la base, in un altro stato, in un altro paese, più, tutta la parte, invece, di pianificazione, sul campo, dove i nostri agenti, entrano in azione, e vanno a fare, la missione, per cui siamo riusciti, a recuperare le prove, ripeto, una campagna, che, cost, che, impiegherà, circa 40 ore, per essere portata a termine, e, niente, lo trovate, su Steam, è un gioco, che io avevo preso, quando, su Steam, c'erano, i saldi, i saldi, penso, invernali, ecco, che io ricordi, c'erano, i saldi invernali, ha delle recensioni, per lo più positive, dicevo, in italiano, non è doppiato, ovviamente, perché il doppiato, lo trovate solo in inglese, il gioco costa, 39,99, ovviamente, ricordatevi, qua sotto, ci sono i link, per i siti, dove magari, lo potete trovare a meno, oppure, se vi va di aspettare, uno sconto, o se siete veramente, degli sfegatati, di questo genere di giochi, 39 euro, è un gioco, che mi sembra, anche piuttosto profondo, ovviamente, io rimango in attesa, dei vostri commenti, o critiche costruttive, insomma, come sempre, e noi ci vediamo, al prossimo video gameplay, alla prossima ragazzi, ciao ciao!